Questa mattina l'assessore alla Polizia Municipale Felice Dierna, l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Tuminelli, la Polizia Municipale con in testa il comandante Diego Peruga e Caltambiente stanno eseguendo un sopralluogo al quartiere Providenza. Abbiamo incontrato Mario Geraci che è costretto a vivere su una sedia a rotelle e che ha lamentato che le buche sono state asfaltate veramente male e la sedia a rotelle slitta su questo chiamiamo l'asfalto. L'assessore Dierna ha chiamato immediatamente l'ingegnere capo Giuseppe Tomasella. Cosa è scaturito da questa chiamata? Sì, come ha detto giustamente il signor Mario Geraci che purtroppo essendo un disabile ha difficoltà di poter arrivare a casa sua con queste strade sicuramente non degne di una città come la nostra. Ha detto anche il signor Geraci che da 5-6 anni che queste strade si trovano in queste condizioni. Io innanzitutto devo chiedere scusa agli abitanti, in particolar modo al signor Mario Geraci a nome di tutta l'amministrazione per il degrado che sicuramente vive questo quartiere. Ma già stiamo provvedendo con atti concreti, con atti fattibili, anche se, appunto, non voglio fare nessuna polemica, questo è il risultato di anni e anni di incurie che sicuramente questo quartiere ha dovuto subire. Dovendo specificare questo che ho detto, abbiamo subito immediatamente e si stanno adoperando sia la società dei rifiuti che ha pulito varie strade di questo quartiere e, come ha detto lei, ho chiamato l'ingegnere Tomasella proprio perché mi ha assicurato che aspettiamo che arrivi l'asfalto il 2-3 marzo e quindi immediatamente sarà il primo quartiere che sarà completamente rifatto con un asfalto decente dove ovviamente gli abitanti, in particolar modo il signor Geraci, sicuramente potrà vivere con la sua famiglia in un modo molto più degno di come non sta vivendo in questo momento. Noi abbiamo sentito la telefonata che lei ha fatto all'ingegnere Tomasella, ha anche detto appena arriva l'asfalto e si iniziano i lavori, io voglio essere chiamato e voglio essere presente. Ma sì, mi sembra ovvio, mi sembra giusto perché deve essere così. Io voglio essere presente all'inizio dei lavori o anche stamattina ha fatto partecipare a questo sopralluogo che stiamo facendo il comandante dottore Piero Peruga con l'ispettore Paternò proprio perché noi, ve lo posso assicurare, siamo in giro per tutti i quartieri nisseni ma proprio in questi quartieri dove sicuramente sono stati saccheggiati e lo dico con grande sento di responsabilità, sono stati saccheggiati per anni e anni ora dobbiamo rimettere le regole soprattutto partendo, ripeto, dai quartieri che sono sicuramente quelli che soffrono di più nella nostra città.